Ed è finale la terza nella storia di Lucca in A1. La Gesam Gas e Luce si aggiudica anche gara 3 della serie di semifinale Scudetto, battendo l'umana Reier Venezia 65-48. Match combattuto per due quarti, poi il cambio di marcia nella ripresa, una terza frazione praticamente perfetta che ha permesso alle Biancorosse di costruire una netta vittoria. Biancorosse subito, precise al tiro, dopo quattro minuti lo score segna 10-1. Nella secondo parziale il ritmo si abbassa, le squadre difendono benissimo e sporcano ogni conclusione e così si va a riposo 26-25 per Venezia. Nella ripresa però Gesam entra in campo con determinazione e gioca il quarto perfetto, 27-3 di parziale, 10 rimbalzi catturati in difesa contro i tre locali, 8 palle recuperate e i punti fondamentali di Hermon, Dotto, Pedersen e Vojta ed un punteggio al minuto 30 di 52-29. Negli ultimi dieci ormai non c'è più niente da fare, Luca conserva il vantaggio e chiude la serie fra gli applausi dei tanti tifosi giunti a Venezia. Adesso la squadra di Diamanti attende la seconda finalista che uscirà dalla semifinale fra Schio e Ragusa.